Qual è il ruolo delle istituzioni? Il ruolo delle istituzioni è fondamentale perché il sistema funzioni. Noi rappresentiamo l'ossatura e le fondamenta di un edificio i cui muscoli sono costituiti da coloro che lavorano in questo sistema, dalle imprese che portano, danno lavoro e che contribuiscono al benessere collettivo, allo sviluppo del paese. Nel mio caso è fondamentale cercare di creare un ambiente favorevole allo svolgimento regolare delle attività economiche. In altri termini questo vuol dire promuovere innanzitutto una legalità consistente in un ambiente completamente immunizzato da fenomeni mafiosi o estorsivi. Palermo sotto questo aspetto ha una tradizione importante in negativo e negli ultimi decenni in positivo. Un ambiente immune dalla pressione delle organizzazioni criminali è un ambiente favorevole lo sviluppo economico e lo sviluppo di un'imprenditoria sana e vuole raggiungere vera. Perché se io devo svolgere un'attività in un posto in cui mi viene imposta un'estorsione è chiaro che l'economia viene inevitabilmente condizionata in negativo e noi invece abbiamo bisogno di economia vera. L'altro compito è far sì che chi lavora nell'impresa lavori nel rispetto delle regole, regole di sicurezza, regole previdenziali. In altre parole noi dobbiamo fare in modo che il sistema funzioni. Il sistema funziona non in un ambiente da far west ma in un ambiente ben regolamentato. Ance Palermo oggi organizza un convegno sulle tema buone pratiche per l'efficienza nei lavori pubblici e soprattutto contro i rischi di corruzione e infiltrazioni mafiose. Qual è l'obiettivo? Questa è la conclusione di un lavoro che abbiamo cominciato circa un anno fa quando questo consiglio direttivo si è insediato. Noi sostenevamo che col sistema normativo attuale c'è una grandissima possibilità di corruzione nel sistema dei lavori pubblici. Abbiamo raccolto dei dati che oggi li presentiamo che ci dicono che il 90% delle gare d'appalto sono senza evidenza pubblica quindi c'è la possibilità di una permeabilità quasi totale. Quindi noi oggi che mandiamo questo grido d'allarme però contemporaneamente con delle buone pratiche raccontiamo e chiediamo alle pubbliche amministrazioni di adoperare dei sistemi per diminuire in maniera importantissima questo rischio di infiltrazioni che ad oggi ci rendono veramente preoccupati quindi è veramente un grido d'allarme. Ma quali potrebbero essere le strade da seguire? Ma guardi è un ricorso alla logica. La normativa prevede due strade o una di evidenza pubblica quindi dove tutti possono partecipare oppure una nelle segrete stanze di qualche ufficio. Quindi la logica ci dice se vogliamo non avere questa preoccupazione rendere quanto più possibile trasparente e pubblico il ricorso alle gare d'appalto.